Ragazzi ma che bug di Mortis abbiamo appena visto, è assurdo ma come può, no, non credo i miei occhi Preparatevi ragazzi perché oggi vi mostro dei funny moments davvero assurdi su Brawl Stars Quindi lasciate like dentro 5 secondi se non volete essere voi quelli a fare i fail clamorosi su Brawl Stars Quindi 5, 4, 3, 2, 1 Spero per te che lasciate like in tempo se non vuoi fare dei fail su Brawl Stars Iniziamo subito in sopravvivenza, attenzione Il Corvo riesce a far fuori quel carlo, attento, attento, attento No, vabbè Foot Brawl, questo frencuccio distrugge tutto No, no, la super quella che fa danno con la torretta No, non ci credo poverini La giamperina che adesso l'hanno iper stramega limitata Maggia l'indere c'è lo stesso a far fuori quella energetica Che energetica è rimasto senza energie, signori No, dove, dove si è andato a rotolare? Oh, no! Wow! Signori! La super di Dana Mike ha avvicinato quel baril alla palla e gli ha permesso di recuperare quel gol Oh, 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 fermi, fermi Eh, ragazzi, qui, qui voglio il quizzone Guardate, c'è praticamente la meteora di El Primo Qui c'è il primo, qui c'è la meteora di El Primo E qui c'è il carrellino che saprà arrivare Quindi cosa accadrà? A. Il meteorite distruggerà e farà saltare in aria il carrellino pieno di gemme B. Il signor baril qui sottostante morirà tra atroci sofferenze Tra meteorite e carrellino Oppure C. Questo è il primo in realtà è una donna Scopriamolo subito assieme, vediamo Eh, no, no! Ragazzi, la risposta giusta era la B. È morto tra atroci sofferenze Vediamo quest'altra clip, signori E il primo va su Mortis Oddio! Che è successo, ragazzi? Ragazzi, cosa è successo? Ragazzi, ma che bug di Mortis abbiamo appena visto È assurdo, ma come può... No, non credo nei miei occhi Riguardiamolo assieme E il primo salta su Mortis Lo infiamma, quindi gli dà uno status In questo caso, appunto, infiammato E lui con la sua abilità stellare Che gli permette di fare il primo dash più lungo rispetto agli altri Fa un super dash che lo porta dall'altra parte del muretto Cioè, ragazzi, può scappare dai nemici in maniera iperisi in questo caso Credo, ragazzi, che funzioni così questo bug Mortis ha uno status Quindi, quello può essere avvelenato Può essere, in questo caso, infiammato Oppure rallentato E il dash gli permette di superare i muri Ma è un bug questo, ragazzi Dovrebbero aggiustarlo Perché in questa maniera sarebbe tipo invincibile Mortis Non va bene Un Mortis invincibile non è per niente buona come cosa No, no Il Mortis è stato lanciato dietro con il gadget del primo E ha fatto gol in maniera iperisi Otto di vita Attenzione Eeeh, la peppa Tripla kill di Penny, signori No, no Gli ha aperto la strada Ma sei proprio Ma sei proprio un fessacchiotto Ma sei proprio un ciambellano di corte La bomba Sta per morire? No Il tic è morto prima È morto prima il tic No, perché? Come hai fatto a morire con la safe? Dai, fra Ok Attenzione Quante bibi? Quante bibi? No È saltato proprio sulla palla Signori Non ci credo Ok Quell'iris ha fatto un bel po' di danni Come fai? Totalmente a fortuna Totalmente a fortuna Non ci credo Non ci credo Eeeh Vabbè Lo fa saltare sul treno E poi lo kill in maniera iperisi Attenzione Attenzione No Vabbè Ma tu sei proprio Sei proprio Un Un ortaggio Manco di stagione Sei Cioè Come puoi far fare Quei fail? Ehi zia Va in porta No 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 zia No Pam 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 Ma sei di quanto Più scema possibile Ragazzi Ovviamente Iscrivetevi adesso Al canale Se ancora non siete iscritti Per non perdervi più Nessun video Nessunissimo video Dovete iscrivervi adesso La tua iscrizione è gratis Quindi scialla Ecco E poi Cioè guardate Questo Io Senza la tua iscrizione Sono come Quello è il primo Che si butta sulla Cassa E non riesce a vincere No Ti meriti di morire Ti meriti di perdere la partita Per questa mossa che hai fatto Sono contento ragazzi Cioè tu con 20 gemme Vai ad avanzare Ma che avanzi Ma che cosa ti avanzi Cioè sono Eeeh Che parata Eeeh Che rim... Vabbè Ragazzi Calmiamoci un attimo Qui Qui davvero Non sto credendo E le mie pupille Le mie pupille Non ci credono Cioè Cioè Mortis ha tirato una palla E fin lì ci siamo Energetic È andato A parare Quella palla Usando il gadget Che l'ha teletrasportato In porta Ma poi Un bo Ha lanciato Le sue bombe Che sono esplose Facendo la kill Su Energetic E la palla Poi rotolata Dietro Ed è finita In porta Sta facendo Gol Cioè ragazzi Io lascio qui Niente Vado Proprio A buttarmi giù Da un ponte Perché queste giocate Davvero Non si vedono Nessun'altra parte Questo non è un funny moments Questo è Fra insegnami a giocare Praticamente Rosa versus Bibi No No il primo Allora Cambiamoci Allora Tutti il primo Di questo modo Ma si facessero Gli affaracci Loro Perché sei Sei saltato lì Cioè Ti sei beccato La palla di Bibi Prima della rosa E sei morto Prima della rosa E quindi Che cosa è concluso Un bene amatissimo Nulla Ragazzi Un bene amatissimo Nulla ragazzi Questo non è un funny moments Questo è un fra impara a giocare Perché l'ha messa lì C'è il bibitozzo No Non mi dire che adesso ci muore Ci è morta Ci è morta Quella maxina è morta Non ci credo Come è fatta a morire Ehi salta Va lì Risalta A terra Lo colpisce E muore Easy 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 proprio Signori Easy proprio Anche se ho visto Un colpo di quel bull Che è andato tipo Della parte opposta No vabbè No vabbè Cioè Finalmente Una giocata buona Da parte del primo Ragazzi Abbiamo visto Tante di quei fail Da parte del primo Finalmente una giocata buona Fa finta Di essere amico A quel mortis E poi lo lancia D'altra parte Nel muretto Dove c'è un cattivissimo Spike Che lo kill Senza proprio Ritegno Senza ritegno Né indignità Che poi guardatelo Cioè Con questa skin E' pure Iper cattivissimo Che 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 Cosa è successo Cosa è successo Signori No 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 Che cacchio Di bug Glisse Ma è questo Guardate Con Shelly Cosa ha fatto Ha fatto in giro Ragazzi Shelly è fatto in giro Cioè Perché Non ha senso Non ha senso Ragazzi Qualcuno mi spieghi Questo Perché è successo Questo Davvero Non ha alcun senso Secondo me Shelly Va Avanti La super Super Double super Triple super Ragazzi Che cos'è La triple super Mamma mia Mamma mia Energetic Fa fuori La Shelly Mamma mia Prima vediamo Una Shelly Invincibile Adesso invece Una Shelly Iper morta La BB Lancia la palla Continua a sopravvivere Vabbè Quanti power up Lì sopra Che sta succedendo Signori Ma quanto L'hanno killato Cos'è successo Non ha senso Non ha senso Dove è tirata La palla Dove l'è tirata Fra Fra Dove l'è tirata Non ha senso Ragazzi Scrivete Qui sotto Nei commenti Quale Brawler Vorreste avere Cioè Se poteste decidere Adesso Un nuovo brawler Da ottenere Da una cassa Così a caso Quale Brawler Vorreste Mamma mia Bella giocata Da parte di Daramike Ogni brawler Ha i suoi pro Ha i suoi contro Ma voi Qual è il brawler Che non avete E che invece Vorreste avere Io ce ne ho tutti Su primo account Quindi davvero Non posso rispondere A questa domanda Ma voglio sapere Qual è la vostra Risposta Qui sotto Nei commenti Guardala Guardala questa Penny Vabbè Vabbè Tanta giocata C'è giocata Iper al top Questa Pam è morta Ormai No Non è ancora morta Non è morta Perché lasciare Non l'ha colpita Di nuovo Vabbè Quante kill Quante kill Sta a fa Non è ancora stato Manco il gadget Quanto si sta curando Vabbè ragazzi Dice vabbè E' una pro player Quella Pam Ragazzi C'è Più pro player Di quella Pam C'è solamente C'è solamente io In pratica Cioè è assurdo Assurdo Altro Altro Colt super pro player E qui abbiamo Gente con Nomi diciamo Molto poco italiani Mamma mia Questo ricco Questo ricco Signori Questo ricco Ma che giocata Ha fatto Questo ricco Signori Mentre vediamo Del mega kill Qui dietro di me Io vi dico Di lasciare Un bel like Se questo video Vi è piaciuto E se non Sconoscevate Il super bug Di mortis Che attraversa I muretti E c'è un bug In realtà Nuovissimo Quindi tanta roba E niente Qui trovate Il mio instagram Qui trovate Il mio tiktok E noi qui ci vediamo Magari In un prossimo video Ciao Ciao